Sulla vicenda delle lettere minatorie inviate al vice sindaco di Ferrara Nicola Lodi si infittisce l'atmosfera da romando d'appendice con colpi di scena che tengono alta l'attenzione non solo dei ferraresi ma hanno finito per attirare anche quella di alcuni parlamentari che negli ultimi due giorni hanno scritto e presentato interrogazioni alla ministra dell'interno Luciana Lamorgese chiedendo di considerare nulle le dimissioni della consigliera leghista Rossella Arqua iscritta nel registro degli indagati dal pubblico ministero Isabella Cavallari dopo circa 60 giorni di indagini sul caso condotte ma non ancora concluse dalla Digos di Ferrara. 3. Le ipotesi di reato contestate, minacce aggravate, procurato allarme e simulazione di reato. Nel frattempo Rossella Arqua si è dimessa con una procedura contestatissima dal suo regale avvocato Fabio Anselmo e messa in discussione dagli stessi parlamentari che ne hanno chiesto l'annullamento. Ma qui arrivano gli altri colpi di scena. Rossella Arqua che già la settimana scorsa aveva presentato formale di fida nei confronti del Consiglio Comunale a dare abbio alla procedura di surga nei suoi confronti è già stata depennata dalla lista di consiglieri leghisti tant'è che oggi alla pagina web del Consiglio Comunale sul sito del Comune di Ferrara il suo nome non compare più. Terzo non trascurabile colpo di scena in conferenza stampa nello studio del suo avvocato la stessa Acqua ha dichiarato non avere scritto di sua volontà alle emissive incriminate. Tutto questo mentre il vice sindaco Nicola Lodi la definisce a quanto scrivono i giornali come un soggetto pericoloso e che per tutelare se stesso e la sua famiglia ne chiederà all'autorità competente misure restrittive. Ma nell'attesa di vedere che cosa succederà nel Consiglio Comunale di domani e dello scontro politico fra Lega e forse intera maggioranza da un lato e i gruppi dell'opposizione dall'altro, i quali hanno annunciato di non votare la surga e che comunque avevano già presentato un esposto al prefetto di Ferrara e al ministro degli interni per chiedere se non sussistono le condizioni per commissariare il Comune di Ferrara alla luce del clima generato dalle lettere minatorie con proiettili, abbiamo sentito il legale dell'acqua, avvocato Fabio Anselmo, che così ci ha descritto al telefono le modalità con cui sono state prese dal Presidente del Consiglio Comunale le dimissioni nella stessa acqua.